Musica Benvenuti ragazzi sono sempre io E oggi siamo tornati nella serie Horror 360 gradi E oggi ho scelto altri due video Un po' particolari Iniziamo con il primo che si chiama Get Out 360 Horror Ok Ok una bella tv con Non so cosa Sembra tutto tranquillo A parte il cuscino E il quadro di un toro Una mucca non ho capito Sembra tutto tranquillo Per ora Ecco Eccolo lì Mancava la tv Ma che Ok Inizio a preoccuparmi Perché sento qualcosa di satanista Perché nella telecamera vedo un tipo E qui non c'è nessuno No 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 Io mi preoccupo E tanto perché è vicinissimo a me Però io non vedo niente qua Vai via Vai via Vai via Io non so cosa sta succedendo La porta è aperta ma C'è una cosa Strana in cam Sembra questa stanza Dire che la tipa che è qui Che la tipa che è qui Nella televisione E questa tipa Come non detto No 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 Sei brutta come la fame Puoi andare via Per favore Mi ha ascoltato Mi ha ascoltato Mi ha ascoltato E' stato un po' Anzioso questo video Però è ancora niente Perché il prossimo video è Hit 360 gradi Secondo me è ancora più spaventoso Non abbiamo avuto ancora jumpscare Ma cui potremmo averli Conoscendo Hit Ah proprio come un trailer di un film Mi piace Bene Questa trave So già come andrà a finire Ok sta piovendo di brutto Perché sto volando No Giorgi Con la barchetta non finisce bene Te lo dico Ah è morto prima del previsto Ok Ok la barchetta va nelle fogne Ormai non so a memoria E ora esce Hit Ciao Hit Quanto sei bello Si che lo voglio Ok Mi fa paura Ok Sembra Che non sia successo niente di male Ok Bello sto posto Dove siamo nelle fogne di Pennywise Dall'ombra penso proprio di si Bello i ratti Che non sia successo niente di male Ok Ok L'ombra mi preoccupa Un banche Che sta voce Tipo un bambino Non saranno mica le anime Che lui ha rubato Ma che Ma che Non mi ha fatto spaventare Il pupazzetto ma era stato Abbastanza inquietante la situazione Scappa bambino scappa Giorgi scappa Anche se secondo me Può essere Pennywise Quei Giorgi Bene La luce che se ne va Un classico Ok Ma che Che problemi hai clown Tanti Ecco il famoso palloncino rosso Non la voglio il tuo stupido palloncino No 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 Ho detto di no No Non mi far niente di male No Non voglio essere un'anima Stupido pagliaccio di merda Tanto lo so che c'è lì dietro Ma va Come se non lo sapevo che eri qui Tu hai seri problemi Ok Ma vai a morire ammazzato Ok Anche questo è abbastanza inquietante Avevo da parte un altro video The Exorcist Visto che c'è tempo Guardiamo anche questo Iniziamo bene eh Con la tipa subito Quanto ti odio Vai via Ma che Tu hai seri problemi E' scomparsa Cioè No è Ma cosa Ma cosa Oddio ovunque tu sia Ma che Ok con la luce non finirà bene I want you to see Ma dove sei Ari eccola Ma che Ma che Credo ho visto abbastanza Non mi sono proprio spaventato Perché non avevo il volume al massimo Se no mi partimo nei timpani direttamente Però sono stati abbastanza inquietanti Soprattutto la parte finale di questo video Tipo la tipa Non si è spezzato in due Va bene raga Direi di chiudere qua Questo video Spero che vi sia piaciuto Se si lasciate un like Iscrivetevi al canale Mette il piace A pagina facebook Trovate le inglese in descrizione Con altri social E niente Noi ci vediamo al prossimo video Bella a tutti raga Ciao 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 Grazie a tutti.